Io mi chiamo Sofia Giulia Mi chiamo Leonardo Edoardo Elisabetta Cosa ci vuole per fare una festa indimenticabile? Amici Avere i nonni Un sorriso Musica Torta Cioè se mi piace a me è perfetta musica Secondo te il decimo compleanno è importante? Beh è un anno in più Perché mi sei molto grande Ho fatto un posto importante Perché più di nove anni? Dieci e sono iniziata ad avere due cifre adesso E' importante per me Quante persone ci sono nella tua festa ideale? Un massimo Massimo di persone quante? Sono 25-24 Invito tutta la mia classe e dunque 22 Non ti fa impressione arrivare a dieci anni? Un pochino Un pochino La mia musica compie dieci anni Un compleanno a doppia cifra Un compleanno importante Che abbiamo deciso di festeggiare Con una serie di eventi che iniziano a gennaio E finiscono ad aprile Abbiamo invitato tutta la classe Ci saranno tutti i musicisti che hanno partecipato alle registrazioni Ci sarà appunto un cd Ci sarà un vinile Ci saranno dei concerti Degli eventi Delle interviste in radio E inizieremo il 21 gennaio Con un grande concerto Con ospite Patramagoni Proseguiremo a febbraio Con finanzi e moneti Verranno anche loro direttamente dall'Italia Insomma andare a vedere Perché le cose sono davvero tante Le trovate qua sotto Potete scegliere come partecipare Come sostenere questo progetto Quale ricompensa prendere C'è un sacco di possibilità E' veramente un progetto ambizioso Quindi vi consiglio proprio di andare a vedere tutte le cose E scegliere quella che vi piace di più E intanto io vi mando un abbraccio Ciao Ti ascolterò E guarderò come lo dici